Alessandra, ma se mi cerca dopo tanto tempo e perché probabilmente pensa ancora a me, magari ha capito, dai, non siamo sempre così cinici, magari ha capito la splendida persona che sono ed è tornato da me. Allora ragazzi, purtroppo il silenzio, la distanza, il distacco, oltre al fatto che non necessariamente chi non si fa sentire è andato a chiudersi in convento, magari è andato a divertirsi da un'altra parte, ma il distacco non fa capire il vostro valore. Chi lo ha capito rimane esattamente lì dov'è e si gusta a voi come persona condividendo i suoi spazi, le sue emozioni ed il suo tempo. Sapete perché le persone tornano dopo tanto? Principalmente per due motivi. Uno, quello di controllare se voi siete ancora responsivi in qualche modo ai suoi segnali. Secondo, necessità di intimità.